La libertà religiosa in Italia è garantita dalla legge fondamentale dello Stato, la Costituzione, sulla quale poggia l'intera normativa vigente in materia. E' poi intervenuta la Corte Costituzionale con sentenze che hanno tracciato un vero e proprio percorso interpretativo che nel tempo si è modificato col mutare delle esigenze sociali. E in tale opera interpretativa la Corte al fine di perseguire l'effettivo esercizio della libertà religiosa e di credo si è giovata anche del quadro normativo di riferimento fornito dall'evoluzione delle norme internazionali in materia di diritti fondamentali. Da quelle elaborate nell'ambito delle Nazioni Unite a quelle elaborate in seno al Consiglio d'Europa, all'Unione Europea, a partire proprio dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione.